Quando il disastro colpisce, la priorità è salvare vite. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Le due persone sono ferite ma coscienti. Sono incastrate, avete bisogno di riforzi. In piedi è l'intervento dei vigili del fuoco. Purtroppo, a seguito di questa temporale, non abbiamo disponibile i vigili del fuoco. Riuscite a fare qualcosa da soli? Sì, abbiamo la prezzatura, ci pensiamo noi. Va bene, nel frattempo vi inviamo le ambulanze. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.